Oggi si discute della nuova legge urbanistica regionale che nei prossimi giorni ci auguriamo venga approvata dall'Assemblea regionale, una legge che sposta completamente l'attenzione anche delle amministrazioni dal tema dell'espansione al tema della verifica della qualità delle nostre città al fine di accrescerne la qualità in due direzioni in particolare legate la prima alla sostenibilità e la seconda alla resilienza. Quindi un'analisi puntuale del territorio e quindi definire all'interno del territorio già costruito quelle che sono le trasformazioni utili a questi fini e tutto questo è il documento per la qualità urbana e ambientale che è l'asse strategico e fondante del nuovo piano. Nuove procedure quindi anche per definire le trasformazioni che dovranno quindi essere ordinate per conseguire gli obiettivi contenuti nel documento per la qualità urbana e ambientale e invece meno definizione a priori di potenzialità e di destinazioni per lasciare ai soggetti che devono intervenire in questo processo di riprogettazione della città anche la capacità di sviluppare al meglio attraverso un processo di corresponsabilità in particolare dei proprietari molecolari dei singoli alloggi queste trasformazioni. Grazie